Tra gennaio 2021 e dicembre 2022 sono stati avviati 17 dibattiti pubblici, oggetto della relazione della Commissione Nazionale del dibattito pubblico. Si tratta di opere ferroviarie incluse nel PNRR, interventi stradali e altre opere pubbliche, tra le quali la Trambia di Padova, la Liga Forania di Genova, lo Stadio di Milano e l'Aeroporto di Firenze. Un bilancio di questi due anni di sperimentazione contenuto nella relazione della Commissione Nazionale per il dibattito pubblico. Siamo Gian Diego Carastro di Argomenti 2000 e Flavia Melchiori Terribile del Forum Diseguoglianze e Diversità, già esperta della Commissione Nazionale, e vi presenteremo i contenuti e le proposte esposte nella relazione. La relazione è stata inviata a norma di legge il 3 gennaio 2023 ai Presidenti di Camera e Senato ed è pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La relazione è stata coordinata dalla Presidente protempore, dottoressa Caterina Cittadino, con la collaborazione dei 14 componenti e dei tre esperti della Commissione Nazionale, con il supporto dei funzionari dell'Uppiglio di Presidenza. Sono contenute delle considerazioni, anche di metodo, e in particolare la relazione si sofferma sui seguenti temi. L'Istituto del dibattito pubblico e il valore della partecipazione. La Commissione Nazionale per il dibattito pubblico, normativa, ruole e competenze. Le raccomandazioni della Commissione. Il coordinatore del dibattito pubblico, lo stato dell'arte, dibattiti aperti e chiusi, la comunicazione istituzionale e infine considerazioni e riflessioni generali. Nei dibattiti pubblici svolti, la condivisione delle informazioni sulle caratteristiche delle opere pubbliche e il confronto con i territori ha condotto a soluzioni migliorative del progetto, quantomeno a una mitigazione dei loro possibili effetti negativi. In alcuni casi si è arrivati alla formulazione da parte del territorio di alternative progettuali che sono state ritenute praticabili dalla stazione appaltante. E questo è l'esempio del dibattito pubblico sulla circonvallazione ferroviaria di Trento. Dal confronto è emersa una proposta di modifica del progetto di fattibilità tecnico-economica che è stata accolta dalla stazione appaltante. Questo è anche avvenuto per la tranvia di Padova a Sir 2. Anche quando la verifica di fattibilità delle varianti di progetto ha avuto esito negativo, le varianti sono state discusse nel corso del dibattito pubblico con l'effetto di prevenire eventuali situazioni di conflitto, ad esempio nel dibattito relativo alla prima tratta della ferrovia Roma-Pescara, tratta Manopello-Scafo. In altri casi, a fronte della impraticabilità delle alternative progettuali, il dibattito si è focalizzato sulla ricerca di soluzioni mitigative o compensative, ad esempio per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio-Calabria, Lotto-Battipaglia-Romagnano, ma anche per la strada statale 16 Adriatica-Tronco-Bari-Mola di Bari. In generale, l'efficacia del dibattito pubblico andrebbe garantita dall'anticipazione del confronto ad una fase iniziale della progettazione, nella quale sia ancora possibile una condivisione delle scelte sulle diverse opzioni e vi siano margini per eventuale modifica o miglioramento. Infine, si osserva che tutti i dibattiti pubblici si sono svolti entro i termini assegnati, compresi quelli relativi alle opere finanziate dal PNRR, sottoposti al termine breve di 45 giorni. Ma quali sono i principi per un efficace dibattito pubblico? Innanzitutto il principio, ovviamente, di partecipazione e inclusione. Il confronto tra la stazione appaltante e le collettività locali, le associazioni e i singoli cittadini e cittadine serve a far emergere dal territorio, ovvero da coloro che ne hanno la più diretta conoscenza, soluzioni migliorative, mitigando o addirittura eliminando gli impatti negativi di un'opera. In secondo luogo, i dibattiti pubblici devono essere svolti in modo da garantire la neutralità e l'indipendenza della procedura. Il ruolo di vigilanza e garanzia è stata assolta nel primo biennio dalla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, con la funzione di controllare le procedure e di definire le regole per il loro corretto svolgimento. Terzo, il principio di trasparenza. I dibattiti pubblici devono essere svolti in modo da garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni sul progetto e il diretto di tutti di partecipare esprevendo la propria motivata opinione. Ultimo principio quello dell'argomentazione. La procedura di dibattito pubblico deve prevedere momenti di confronto dialogico tra le parti per permettere ai partecipanti di esprimere un punto di vista argomentato sui propri interessi, sulle esigenze, sulle preoccupazioni in merito all'opera oggetto di discussione. In conclusione i dibattiti pubblici svolti in questi anni non solo non hanno determinato un allungamento dei tempi ma in molti casi hanno consentito l'accoglimento delle proposte emerse dai territori, evitando eventuali contenziosi e semplificando la realizzazione delle opere. La partecipazione civica gestita con capacità e integrità ha l'effetto di consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, migliorando la progettazione delle opere e rafforzando la qualità delle opere pubbliche. Grazie. Grazie.